Via! Via! Madonna Santissima! Via, per favore, via! Patrizia! Filippo! Fuori! Incredibile, di drammatico! Madonna! È pazzesco! Incredibile! Correte! 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 Madonna Santissima! Guarda come si muove! Ma è rimasto qualcuno dentro! Fuori! Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Via! Fuori di qui! Passate dai pazzi ancora a rimanere! Fuori! 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 Via! Via! Siamo disto! Siamo disto! Siamo fuori! Madonna Santissima! Sta cadendo tutto il capo, orò! Via, via, via! Madonna che sta venendo adesso, ragazzi! Patrice, vieni qua, qua, qua! Qua, qua, qua! Fuori! Andiamo via! E' super la banca, e' super la banca!